Attenta! Via! Oh, c'è il sole davanti! Eh? Eh? Ci sta ripensando? La faccio? Vado? Non vado? Ho tirato male il bastone. Dovevo tirarlo più alla larga. Epla, epla, epla. E si è la nuova tavola. Eh sì, lei. Adesso faremo una prova alla scuola di salvamento in acqua all'idroscallo. Sabato andiamo lì, siamo andati domenica, era bellissimo. Scarlett! Bravissima, amore! È bello che l'ho fatta ieri sui venti euro di bambini.